Conosciamo Andrea Papo Boscolo, prima di tutto le tue caratteristiche? Gioco davanti alla difesa, mi piace impostare, giocare palla a terra. So anche giocare non solo davanti alla difesa, anche a due in centro campo. Mi piace giocare bel calcio. L'anno scorso al Mestre, insieme ad Armando Perna, probabilmente lui è stato quello che ti ha convinto a venire a Modena. Sì, Armando mi ha parlato benissimo qui di Modena, poi mi ha chiamato il direttore, sono venuto qui, ho visto lo stadio e appena ho visto lo stadio mi sono innamorato. Pensa quando vedrai i tifosi. Speriamo di venire in tanti. Anche perché 3.500 abbonamenti in 10 giorni, entusiasmo, attesa, queste sono le parole che circolano per Modena. Sì, ho visto grande entusiasmo, ho già conosciuto qualche tifoso in città, oggi era il primo giorno, vedo che c'è tanto calore. Sarà un camminato comunque difficile, probabilmente ci sarà lo sparocchio di avere altre squadre attrezzate altrettanto bene come il Modena. Speriamo non siano tutti nello stesso girone, però comunque anche nei campi provinciali non è mai facile, quindi bisogna partire bene, lottare e speriamo bene. Beh, con una rosa così attrezzata penso che anche le altre squadre devono poi temere il Modena. Sì, sicuramente devono temerci, però sai, dopo conto di noi vorranno tutti fare bene a figura e cercano di rubarci punti, quindi non bisogna sottovalutare nessuna squadra. Grazie.